Ogni giorno siamo travolti da tantissimi input visivi che mettono in secondo piano la parola. Ma come possiamo proprio rimettere al centro la parola? Chi meglio di un esperto, come un giornalista radiofonico, può dircelo. Ce lo dirà appunto Fabio Colagrande, giornalista di Radio Vaticana, che sarà il nostro ospite nel prossimo appuntamento di Ascoltare e Farsi Ascoltare.